ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video del mondo di greco oggi siamo di nuovo qui per finire il torneo del decimo anniversario di clash e non fateci caso ho fatto un po di amichevole comunque prima ho messo due soldi non ho una reazione idioti se non è una cassa enorme non è una cassa poi oggi avevo intenzione anche di prendere bohmeci a bianco perché ho pochissimi c'è tantissimi star point quindi me ne mancano al 100 e ho preso bohmeci a bianco però io voglio sformare per penny contra bandiera che è una delle mie skin preferite comunque iniziamo a raffa gemme a raffa gemme io ti metterei ma squeak anzi leon secondo me leon è bravo in a raffa gemme a raffa non a raffa ok ah molto strano questa raffa gemme quindi vai leon è il più veloce quindi ecco però dalla loro parte è la prima gemme ecco scopo potrebbe essere un danno perché appunto lui ti si appiccica non ci credo qualcuno prende qua vai vai bonny bonny usa la super bravissima bonny se ci pensate nella seconda trasformazione quando non è più un come si chiama il cannone e ha lo stesso attacco di leone perché è praticamente lo stesso attacco si ok questo è morto però anch'io sono morto dai un colpo a bull e lo uccidiamo e lo uccidavamo ok quello così invisibile ok ok forse muore forse muore forse muore forse muore no 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 ok grande stecca 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 cosa no peccato stecca dai però ragazzi impegniamoci dai ecco c'è bull ok abbiamo risparmiato un po di tempo ok forse ci possiamo fare forse ok ok fa così lo spiritoso e lo adesso lo uccidiamo eh no vedi che ha paura però noi siamo a 5 almeno manca ce ne mancherebbero solo beh ce ne mancavano solo 4 per ucciderlo cioè non per ucciderlo per pareggiarli ok adesso gli mancano altre 5 0 dobbiamo per forza uccidere bull ok ok no il bull ha paura per caso che scappa così vado anche più veloce ok no non mettiamo quindi abbiamo ancora un sacco di possibilità tranquilli 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 ragazzi tranquilli quindi adesso metterei un brawler forte nel raffaggio m boh gelino anzi non pazzo però cambiamo non mettiamo vita e scudo a cavallo quindi adesso dobbiamo continuare ok mi raccomando mi raccomando quindi uso tutto il gadget che non ho preso nessuno tanto evitata tantissimo è tarata al massimo tanto evitata tantissimo che faccia ok dai qualcuno dovrò for prendere ok no e niente ma caccelerò il super no però un gadget mi resta ok 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 ci ha rovinato tutto ok grande Frank potrebbe farcela perché ho visto che usava la super grande Frank però tu devi uccidere Tara ecco ecco Tara al buco nello attenzione attenzione ok io ho quella super super adesso che si scappa 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 scappiamo ok via 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 cosa usi al super magari ci serviva ok siamo in due quindi qua quella per un po' difficile che ci trovano ci hanno trovati mannaggia si benissimo ce l'abbiamo fatta ho una cassa enorme l'apriamo col mignolino niente che peccato ci avevo sperato volevo prendere Janet ah ieri non è uscito nessun video perché ho avuto qualche problema con la mia mente avevo sonno e quindi non l'ho fatto comunque oggi ne escono due uno la mattina e uno il pomeriggio avvengiano niente buzzerbazzo buzzerbazzo no voleva attaccare un po' ma non ce l'ha fatto hanno scelte questo un problema grande grande e grosso ecco appunto attenzione scende con la super bravo appunto quello che stavo per dirvi attenzione a scelte con la super però io ce l'ho la super sai che ti dico vai Janet bombardala chiaro che sta Janet c'è una mira guarda ok mi sei laggato per un secondo ok anch'io c'è una mira guarda imparagonabile e tanta scegli mi ho poca vita si vabbè grazie fanger che sei cos'è sta roba se che questa la perdiamo sapete ma me lo sento però scusa se io faccio così a bobo è andato però c'è fang che rompe le scatole scatole dai Janet tutta sta super e va in volo ecco e non gioca manco più perché pensa che abbiamo perso non abbiamo perso ecco no Janet ecco però se siamo in due è un po' difficile di giocare a questo gioco dai dai che uccidiamo brava Janet bravi fai qualcosa dovevamo uccidere fang dai mannaggia la mia brawler mettiamo adesso energetica che gli cambiamo tutto gli mettiamo forza e scudo che ho fatto al contrario scudo e forza non è poco ma spada e scudo ok abbiamo la game dei cromaci qua ok uso questo ok ok boh mi sono abituato a usare ehm perché io non c'era ancora quando io c'ero quando energetic usava la super da fermo non si muoveva quindi non sono abituato ok grande otis questo qua è molto forte oh oh questo è un problema se mi si lagga ogni volta quindi abbiamo due power up adesso cosa facciamo vai otis usa la tua gadget quello lì mi ha rischio di vita vero mio come è fatto a stopparmi che è stato ok se noi uccidiamo colt possiamo vincere bravo però se noi uccidiamo corvo potevamo vincere e adesso faccio così e scappo perché ho poca vita dai ancora uno ce ne serve ancora due sono lì no ancora una dai vai otis faccio io e scappo 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 sì ci abbiamo fatta benissimo benissimo con l'energia tip ritira quattro skip che mannaggia oh dai non male l'ultima partita del torneo se la vinciamo abbiamo vinto il torneo del decimo anniversario di clash royale vediamo queste emoji ho fatto quella sbagliata un brutto segno ecco questo non ci voleva con Stu non ci voleva affatto ok allora sono il brava Tara è il bravo è il bravo mortis che ti sei fatto uccidere come un pollo quindi vai 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 ok dai dai pende tutela che io sai un po di vita ce l'ho usa un buonero magico usus 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 guarda che diventavo usus grave la cosina di Tara per realtà non fate uccidere eh per favore per favore l'ultima partita del torneo non facciamo scherzi non facciamo scherzi tara non morire ok possiamo scappare no non possiamo più scappare perché tara penso io ok sono tipo un marchio mente ok adesso possiamo scappare scappa scappa finché puoi scappiamo che il primo la super anche ok tara se muori guarda abbiamo vinto il torneo ci abbiamo fatto ragazzi ci abbiamo fatto complimenti vinto una sfida quindi prendiamo una casa per un attimo mi sembrava janet che aveva lo schifo detto sì abbiamo preso questo graffito quindi ragazzi facciamo ultima cosa voglio portare otis alle 10 così mi prendo anche anzi no bonnie che bonnie più vicino così mi porto anche mi prendo anche una nuova skin che prenderanno però nel prossimo episodio quindi per oggi è tutto ci vediamo prossimo video ciao ciao